E' Agrigentino il nuovo assessore regionale al territorio ed ambiente. In sostituzione del dimissionario Gian Maria Sparma, il presidente Lombardo ha nominato l'avvocato Sebastiano Di Betta, anch'esso in quota Fli. Avvocato, nato da Agrigento 39 anni fa, sposato e padre di due figli, Di Betta ha maturato negli ultimi 10 anni una grande esperienza nel settore delle relazioni industriali e societarie del mondo finanziario, con incarichi di primissimo piano per compagnie nazionali e internazionali. Con la nomina di Di Betta si completa quindi il mosaico dell'aggiunta regionale. Dissenso per il metodo della scelta del nuovo assessore è stato espresso invece da Francesco Musotto, capogruppo all'ARS dell'MPA. Non è un fatto personale, spiega Musotto, nulla contro la persona, ma non possiamo condividere questo metodo. Le decisioni non concertate con la base del partito e incomprensibili da un punto di vista politico allontanano i militanti dal partito stesso. Questo metodo di nomina, nei confronti del quale avevo già manifestato il mio aperto dissenso direttamente al presidente Lombardo, dice Musotto, si scontra con gli sforzi quotidiani che ciascuno di noi opera sul territorio per creare consenso e nuovi adepti. Pronta la replica di Lombardo, comprendo sul piano squisitamente politico il dissenso di Francesco Musotto sulla metodologia della nomina dell'assessore Di Betta, ma questa scelta, come tutte le designazioni del governo regionale, non è stata posta al vaglio di alcun partito o a alcuna consultazione della base per il semplice fatto che si tratta di un intervento tecnico, perché tecnico è oggi il nostro governo. Le prassi che Musotto auspica, ovvero procedure concordate con la base e scelte politiche, conclude Lombardo, saranno naturalmente poste in essere, quando sarà ritenuto necessario, il passaggio ad un esecutivo politico. Grazie a tutti.